Buongiorno, buon sabato. Buongiorno, buon sabato. Bentrovati a questo ultimo appuntamento settimanale con Mattino 6, anche l'ultimo giorno di questo mese di settembre. Iniziamo subito dalla lettura delle prime pagine dei quotidiani regionali. Come vedete alle mie spalle c'è già la prima pagina del centro nella edizione di Pescara. Allora andiamo sul touchscreen per vederla meglio. Il titolo di apertura del giornale, i killer di mio figlio, sono due. Ovviamente torniamo a parlare dell'omicidio di Montesilvano, la madre di Bevilacqua, Cusa, Fantauzzi e Mancinelli, entrambi colpevoli. E stasera ci sarà una fiaccolata. E poi andiamo a centropagina per guardare insieme la fotonotizia tua. Che disastro è il titolo, lo sciopero del trasporto pubblico abruzzese. Ieri, scarsa manutenzione, bus guasti, servizio sotto gli standard. Queste le problematiche evidenziate dai sindacati e dai lavoratori che hanno scioperato. Andiamo a vedere anche nelle cronache l'intercettazione Palazzo Asla da 3 milioni, una manovra politica. E poi l'ex vigile licenziato, sempre a Pescara, vive sulla spiaggia Pasquale Solari. E poi il calcio, nove assenti. Pescara, Carpi, Zeman, polemico. Troppi dolorini da parte dei suoi giocatori. E poi nella seconda parte della nostra rassegna ascolteremo proprio le parole di Zeman. Andiamo a vedere in Abruzzo. Convegno con Legnini. Ieri a Pescara, IPM, i fatturati non fermano le inchieste. Poi Lolli spiega il piano, così l'Abruzzo investe sulla ricerca spaziale. E ancora una legge targata a Gatti, terremoto aiuti a centinaia di microaziende. Il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna. Il titolo, quella notte di 25 anni fa, quando finì la democrazia cristiana. Andiamo invece adesso nel taglio alto per vedere i richiami dalle cronache nazionali ed internazionali. Si parte dalla Catalogna, referendum ad alta tensione. Catalogna nel caos, la folla scende in piazza per votare. Vedete la foto abbastanza eloquente. Molti in Catalogna chiedono l'indipendenza. E poi vertice paura a Torino. G7 scontri con la polizia, cariche contro i no global. Andiamo avanti sempre sul quotidiano del centro. Andiamo a leggere le altre edizioni. Questa è la prima di Chieti, Lanciano Vasto. Il titolo di apertura, appalti pilotati, svelato il piano. Chiaramente si torna sulla vicenda che riguarda l'inchiesta Masterlist, condotta dalla procura di Avezzano e dalla squadra mobile di L'Aquila. inchiesta sulle mazzette a Casa Canditella, arrestato il sindaco, ve lo ricordo, Giuseppe D'Angelo. Interessi anche in altri comuni del Chietino. E poi andiamo a vedere nelle cronache. Oggi funerali a Vasto, schianto in autostrada. Addio all'imprenditore. Nella foto vedete il furgone distrutto di Fabrizio Belfiglio, ritratto in questo tondo. E poi a Castelfrentano, Classi Pollaio, via libera allo sdoppiamento. A Chieti ha 91 anni, contromano sul viadotto. Continuiamo con la lettura del quotidiano Il Centro. Passiamo alla edizione di Teramo. Andiamo a vedere anche qui l'apertura. Comune in rosso per 15 milioni. La Corte dei Conti, squilibri di cassa. Il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, si difende. Colpa di altri enti morosi. E poi nelle cronache, sempre da Teramo, addio del Vescovo Seccia. Teramo, puoi crescere. Questo è il commiato. Di Monsignor Michele Seccia, a sacerdoti e fedeli, prima del suo trasferimento a Lecce, che però avverrà il 2 di dicembre. E poi, Silvi, andiamo a vedere quest'altra notizia. Muore in casa, 31 anni e giallo, sulle cause della scomparsa di Leo Santoro. Il crack, licenziamento per 29 operai dell'ex CIRSU. Queste le cronache Teramane. Poi passiamo alla prima pagina della edizione di L'Aquila Vezzano sul Mona, sempre sul quotidiano Il Centro. Il titolo di apertura, Biondi, primi 100 giorni al veleno. L'Aquila, tre mesi di accuse reciproche e tensioni in aula, tra maggioranza ed opposizione del capoluogo di Regione. Ancora nelle cronache da Vezzano e il GIP, così Venturini ricompensa i sostenitori. Ancora, diciamo, approfondimenti sulla inchiesta Masterlist. Da sul Mona, ZTL, 1200 passa ai disabili, l'ASL più controlli. E poi all'Aquila, calcio, chiodi non cede, rugby esordio. A rischio, facce scure dopo il vertice, l'ennesimo per quanto riguarda le questioni societarie dell'Aquila Calcio. Andiamo a vedere adesso la prima pagina del messaggero inserto Abruzzo. Eccola qui la prima pagina, il titolo di apertura. La Regione investe nello spazio. Disponibili 40 milioni per diventare hub nazionale delle tecnologie saleditarie. Al programma parteciperanno Alenia, Telespazio e Leonardo. Si parte entro l'anno. Continuiamo, scendendo a centro pagina, ancora l'inchiesta Masterlist. Tangenti, spunte il tesoretto del faccendiere Ruggeri Avezzano. Gli indagati puntavano ad arrivare ai vertici della Regione. E poi nella fotonotizia l'allerta del procuratore Roberti a Pescara, Abruzzo a rischio mafia. Ieri il procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti, ha partecipato ad un convegno all'Aurum. Andiamo a vedere anche quest'altra notizia che riguarda sempre la cronaca. Truffe informatiche, il record è a Pescara. Pescara è tra le capitali dei reati informatici. Un rosario di furti d'identità, riscatti sessuali online e vendite tarocche. Di spalla, Invictus Game, due medaglie al maresciallo di Loreto. L'evento sportivo per disabili promosso a Toronto dal principe Harry. E poi nel taglio basso, sicurezza, i controlli sulle dighe. Avviare una forte attività di prevenzione per verificare le condizioni strutturali e sismiche di dighe invasi presenti sul territorio regionale è stato il tema dell'incontro di lavoro tra il governatore della regione Luciano D'Alfonso e i rappresentanti delle quattro prefetture abruzzesi, dirigenti regionali, Arap e Enti, proprietari delle infrastrutture idriche. Secondo un primo censimento, in Abruzzo sono attive 14 dighe di carattere nazionale e 43 di carattere regionale. Andiamo adesso nel taglio alto per vedere gli altri richiami dalle pagine interne. Pescara, Ponte Nuovo al business edilizio, in corsa i big delle economie. Poi la ricostruzione, l'Aquila festeggia la rinascita di Palazzo Camponeschi. E per lo sport, il Pescara di Zeman oggi a Carpi cerca la prima vittoria esterna. Il tecnico, non voglio più vedere una squadra brutta come nel primo tempo di Cremona. Zamparo fuori, l'ultimo dubbio riguarda la presenza di Canutè. Cambiamo ancora una volta testata, adesso ci spostiamo sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo. Il titolo di apertura ci torna a raccontare dei conti in rosso del Comune, allarme per i conti del Comune e il titolo. La Corte dei Conti chiede misure per far fronte allo squilibrio finanziario da 15,2 milioni di euro al Comune di Teramo. E poi a centropagina, nella fotonotizia, l'annuncio il Vescovo Seccia, nominato Arcivescovo a Lecce, l'addio del Monsignore. Con questa foto, diciamo, istituzionale del Vescovo. Andiamo a vedere anche di spalla cosa troviamo. Sant'atto, altri sette giorni di sciopero all'Atria. Poi in notaresco, Cirsu dopo lo stop arrivano i licenziamenti. Da Roseto degli Abruzzi, DSB, figuracce in consiglio per la maggioranza. E poi c'è la lettera aperta di AGL Abruzzi, la manfrina del garante, si parla ovviamente del garante dei detenuti. Andiamo a vedere, sì, nel taglio basso, questa notizia curiosa che arriva dalla Val Vibrata. La visita, il campione Eggdard Davids, spunta a sorpresa, Sant'Egidio alla Vibrata. Mentre per quanto riguarda la Sede C e in particolare il Teramo, la società bianco-rossa si fa comandare dai tifosi, così l'ex Sansovini al veleno. Questo per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani della nostra regione. Adesso apriamo lo spazio dedicato al nazionale. Andiamo a vedere i titoli dei principali quotidiani italiani. Iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura è dedicata al referendum in Catalogna. Catalogna fermerò il voto. Linea dura del prefetto di Barcellona. Alta tensione, Madrid chiude lo spazio aereo. La polizia ha deciso di sigillare i seggi, ma gli indipendentisti li occupano. Chiaramente situazione da seguire con estrema attenzione, quella in Spagna. E poi stato e regioni, l'approfondimento, secessioni, le ragioni deboli, scrive Sergio Romano. E poi le crisi territoriali, servono istituzioni flessibili, come raccontano Alberto Alesina e Enrico Spolaore. A centro pagina, invece, il vertice di Tallin, Europa, 19 paesi per la web tax. Teresa May, in ultima fila, come un'intrusa al vertice in cui i leader europei hanno discusso sul tema della web tax, cioè su come tassare i giganti del web. Continuiamo con quest'altra notizia, invece, di politica interna. Berlusconi e Salvini siglano un patto per battere Grillo. Questa è la nuova alleanza del centro-destra. Sulla Repubblica, l'apertura è dedicata a quanto invece sta accadendo nel Comune di Roma. Raggi, altra grana, bocciato il bilancio. I revisori dicono che non è veritiero l'organo di controllo. Conti confusi. Il Movimento 5 Stelle, invece, parla di attacco politico e chiede le dimissioni di due dei tre componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. E poi, nella pagina, scusate, nella fotografia, ritroviamo la Catalogna. Alta tensione a Barcellona, alla vigilia del referendum. E il titolo, Catalogna, i trattori a difesa dei seggi. Continuiamo con la stampa. Il quotidiano di Torino pone in primo piano quanto sta accadendo in Spagna. Alla sfida della Catalogna, seggi occupati. Muro contro muro, alla vigilia del referendum per l'indipendenza. Chiuso lo spazio aereo sopra Barcellona. Ieri la città è scesa in piazza. Gruppi di elettori si mobilitano. Madrid invia 10.000 agenti. Non si voterà. Questa è l'intenzione di Madrid. E poi, la politica, quanto sta accadendo al Comune di Roma. Roma, bilancio bocciato, lira del Movimento 5 Stelle. Revisori, errori sui fondi per le partecipate. Intervista con Romeo. Con quelle tre polizze ho fatto male a Raggi. Passiamo al fatto quotidiano. Il titolo, il partito dell'impunità. Torna la legge salva abusi edilizi. Confindustria difende i corrotti. La maggioranza rilancia la sanatoria falanga. Questo per quanto riguarda il nuovo codice antimafia che è stato criticato. E lo vedremo fra poco, andando a sfogliare anche la prima pagina del Sole 24 Ore dal presidente di Confindustria, Boccia. E poi, nel taglio alto, sempre sul fatto quotidiano, Maroni e Zaia, 40 milioni per il referendum inutile. Autonomia fiscale si può anche senza urne. I presidenti leghisti di Lombardia e Veneto puntano sulla consultazione. Il loro collega dell'Emilia Romagna li informa. La riforma del titolo quinto della carta ci consente di trattare subito col governo, ma senza spot elettorale. Eccola qui la prima pagina del Sole 24 Ore. Allora, andiamo a vedere insieme il titolo di apertura sull'economia. Team Vivandi, Golden Power a ottobre, intervista al ministro dello sviluppo. Andiamo avanti con le condizioni sulla rete di Sparkle. Ci sono gli estremi, poi decide il comitato. Calenda sul polo navale militare con i francesi. Decisione in sei mesi, partnership o integrazione. E poi, come vi dicevo in precedenza, le critiche sul codice antimafia. Il codice antimafia si amplia il fronte del no. Boccia, dice, mina i diritti. Scendiamo a centro pagina. Catalogna assediata dalla Guardia Civil. Il referendum contestato. Madrid manda 10.000 agenti. Scendiamo ancora. Salvataggi bancari. Si chiude la partita. Il decimo intervento dopo le Good Banks, Montepaschi e Venete. I francesi diventano la settima banca in Italia. Credì Agricola acquista con 130 milioni le casse di Rimini, Cesena e San Miniato. Andiamo a vedere anche il focus tradizionale. Nel taglio alto, adempimenti, liquidazioni IVA, gli avvisi e sbilanciano i ravvedimenti. Il manifesto ora. Il titolo sulla fotografia del vertice di Tallin. La grande evasione. Al vertice di Tallin, Francia, Germania, Italia e Spagna fanno la voce grossa contro i giganti del web che non pagano le tasse. Allo studio, la proposta di tassare non gli utili che le aziende spostano nei paradisi fiscali, ma il fatturato. L'Unione Europea potrebbe incassare diversi miliardi all'anno. E poi nel taglio alto, una notizia che non abbiamo trovato in precedenza. Trump gela Cuba. Stop viaggi. Salute a rischio. Washington agita lo spettro degli attacchi acustici. Torna il gelo dunque fra Casa Bianca e Lavana. Il messaggero adesso. Il titolo di apertura ci riporta a Roma. Conti di Roma, allarme del tesoro. Il Campidoglio non risponde ai rilievi della ragioneria. Eminente la convocazione della sindaca. I revisori bocciano il bilancio. Non veritiero. Movimento 5 Stelle lo approva ugualmente. Sono tecnici indagati. Si dimettano. Questa è la risposta del Movimento 5 Stelle. Poi sempre per quanto riguarda il Comune di Roma, l'inchiesta e il test proraggi smentito dalle carte. Caro Marra, le nomine. Un merito tuo. Andiamo a vedere adesso invece in Spagna cosa sta accadendo. Nella fotonotizia, referendum per l'indipendenza. Domani il voto. Da Madrid 10.000 agenti. Seggi occupati. Barcellona sotto assedio. Poi troviamo il vertice d'Italia in tassa sul fatturato dei giganti del web. L'Europa accelera. Spinta di Italia, Francia e Germania pronti a fare da soli. Bozza d'intesa entro il 2018. Restiamo ai quotidiani romani. Ma andiamo a vedere adesso il tempo. Regolamento di Conti è il titolo scelto dal tempo. Con questa foto di Virginia Raggi perplessa con un pallottoliere. Bufera sul Campidoglio. I revisori bocciano il bilancio. Di fronte a errori e sbagli, l'aggiunti evoca il complotto. Poi i grillini calano l'asso. Indagato il presidente OREF. Scendiamo a centropagina per le altre notizie. Corallo tace col PM. Rischiano Fini e Tugliani. A giorni la chiusura delle indagini. Possibile la richiesta di rinvio a giudizio. E poi non riesco a fermarmi. Ha stuprato 25 ragazzine ma era libero. Edgar Bianchi detto il maniaco dell'ascensore. Andiamo avanti ancora. Quotidiani di area di centrodestra. Con libero il titolo di apertura. I partiti in bolletta si daranno al futuro. L'abolizione dei finanziamenti mobilita i ladri. Crollano del 61% le entrate dei movimenti politici. Per campare sfruttano quindi le fondazioni. Sono 102 quasi tutte con bilanci opachi. Beffa sui vitalizi. Con la riforma ci costeranno di più. E poi il referendum del 22 ottobre sulla scia di quanto sta accadendo in Spagna e in Catalogna. La spinta di Salvini, Lombardia e Veneto autonomi. Perché conviene votare sì. E poi gestiamoci da soli. Non diamo quattrini a quelli che li spendono male. Dice Vittorio Feltri. La verità. Il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. La battaglia dei referendum. Dalla Catalogna a Lombardia e Veneto. Rivolta contro le capitali. Succhia soldi. Domani Barcellona prova a staccarsi da Madrid. Il 22 ottobre toccherà le due regioni più produttive d'Italia. a tentare di conquistare la gestione delle loro ricchezze. Un passo necessario. Lo dimostra il disastroso bilancio di Roma. Che i revisori si rifiutano di vidimare. Ad onor del vero. Bisogna dire che per quanto riguarda ad esempio il Veneto. I soldi dello Stato italiano hanno consentito di salvare due grandi banche. Che sono andate in default. E quindi le cose poi vanno viste da entrambe le prospettive. Andiamo a vedere quest'altra notizia. Ecco il pedofilo che fu lasciato libero di violentare le bambine in ascensore. Ecco qui la foto che lo ritrae. Andiamo sul secolo d'Italia. Il quotidiano che fa riferimento a Fratelli d'Italia, Alianza Nazionale. Il titolo con la foto con questo scatto rubato di Berlusconi Sorridente. Vinceremo noi. E poi in primo piano, ora la castrazione chimica. Aiutatemi, sono malato per la vicenda di Edgar Bianchi. E in Italia troppo razzismo, solita litania della Chiang. E poi ricalcolare le pensioni d'oro e la proposta della Meloni. Su avvenire il quotidiano cattolico si apre parlando di famiglia. Famiglia Padoan spegne la conferenza. Critico il forum, aiuti solo a chi è in emergenza. Si chiude fra delusione delle associazioni l'appuntamento nazionale. Tutti d'accordo sull'urgenza di sostenere la famiglia. Ma niente fondi. Padoan è impegnato a tenere stretti i cordoni della borsa. Per evitare quello che in gergo viene definito l'assalto alla diligenza in questo bilancio di fine anno che è prossimo alle elezioni. Siamo a centropagina con la vicenda della Catalogna. Trattori e cortei. La sfida di Barcellona a Madrid. Vigilia di tensione. Minacciati arresti. E maxi multe. Proseguiamo sul mattino di Napoli. Il titolo di apertura. Andiamolo a vedere. Berlusconi Salvini. C'è il patto. Emendamento alla legge elettorale. Chi avrà più voti sarà premier. Accordo sul Rosatellum. Bis è vertice ad arcore per definire il programma. E dal Movimento 5 Stelle arriva un emendamento anti-cavaliere. Il codice antimafia e la polemica sulla nuova norma. Industriali trattati come delinquenti. L'ira del presidente di Confindustria boccia. A centropagina, Catalogna. I cittadini occupano i seggi. E poi l'intervento del presidente dell'ANAC, Cantone. Fui tentato di fare il sindaco. Cantone. Io in politica tra tre anni. Vedremo. Guidare Napoli in esperienza di grande fascino. Oggi la città è migliorata. Roma è indietro. Così il mattino di Napoli. Proseguiamo con il secolo XIX. Andiamo a vedere il titolo di apertura. Gronda. La rivoluzione dei pedaggi. Autostrade. Il decreto. Liberalizzare il tratto tra Voltri e Genova. Aeroporto. Il ministero sovrapprezzo sul bypass. Toti. Il governatore della Liguria. Dice ci siamo. E poi a centropagina. Ha piccato il fuoco alla porta di casa Bianchi. Ecco l'immagine che ha incastrato il maniaco. Bianchi ripreso da una telecamera nel palazzo in cui ha aggredito una ragazza a Milano. A Genova venne condannato per 25 stupri. Lasciamo i quotidiani nazionali e generalisti per passare a vedere insieme quelli sportivi. Iniziamo dalla Gazzetta dello Sport con un'apertura dedicata all'Inter e un'intervista a un ex interista Materazzi. Inter-Mia sei da Champions. L'intervista esclusiva. L'ex campione del mondo 2006 dà la carica al club con cui ha vinto il triplete. Spalletti sarto giusto per una squadra che non molla che andreva trequartista ideale. Skriniar dovrebbe osare di più. Questo è il riassunto dell'intervista integrale che poi troverete all'interno del giornale. Il sondaggio SVG, Gazzetta e i tifosi si fidano. Nerazzurri fra le quattro crisi Milan sarà breve ma lo scudetto è un affare fra Juve e Napoli. C'è voglia di A con 18 squadre. Ancora Totti resta magico, Tiblisi l'applaude nella Notte delle Stelle con l'ex romanista in campo pure Maldini, Rivaldo e Shevchenko e Toni nella partita organizzata da Calazze. Andiamo a vedere le altre notizie. Sempre per il calcio, il nostro nero il supermatch. Silva cresce e fa sempre gol vicino a Kalinic contro la Roma. Il belgio si dimentica ancora di Angolan. Verso Atalanta Juventus, Gomez che sfida con Dybala e alla fine gli chiedo la maglia. Andiamo a vedere un'altra notizia. Svolta italiana, cambiamo disciplina, America's Cup, Veste Prada. Bertelli sarà anche sponsor delle selezioni. Passiamo al Corriere dello Sport. In apertura Milan prendi Ancelotti. Calazze lancia da Tiblisi un messaggio con i grandi ex rossonieri. Tornare vincenti con Carlo si può. Nel taglio alto fidatevi di ventura immobile al CT. Serve tempo, vedrete, andremo ai mondiali. Il bomber italiano più in forma si racconta. Lazio tra le grandi all'estero è stata dura. Di spalla la Juve e Chiellini a quota 440 nella top 10 dei bianconeri più presenti. Scendiamo, Milito esalta Inter e Icardi, lotteranno per lo sculetto. E poi la Serie B, Salerno che cuore sotto per 2-0, poi rimonte e fa 2-2 al Parma nell'anticipo del turno di Serie B. Per la Formula 1, Seb, velocissimo, alle 11, la Pol Ferrari davanti a tutti nelle libere. Domattina alle 9 il GP di Malesia. Su Tutto Sport, Betancourt, ecco perché si è preso la Juve. Schelotto che lo ha allenato al Boca, ci svela i segreti del centrocampista uruguaiano. Personalità, intelligenza e talento. Pogba sudamericano, sì, tra un anno il paragone ci starà. E poi il Toro, Cairo spinge Niang, l'ho pagato caro ma vedrete quanto è forte. Nel taglio basso, Bonucci alta tensione, troppi errori, cresce il malumore tra i tifosi e nello spogliatoio del Milan. Ora ci fermiamo per il break pubblicitario, prima però andiamo a vedere le previsioni del tempo con Meteo 6, poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo alle notizie dalla nostra regione e lo facciamo riaprendo le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Partiamo dal quotidiano Il Centro. In primo piano il venerdì nero dei trasporti. Tua, Maxi Sciopero contro i bus a pezzi. Il sindacato, un disastro, in 900 incrociano le braccia. Andiamo a vedere i dieci motivi elencati dal sindacato che hanno portato allo sciopero. Mancata manutenzione di autobus e treni, autobus in servizio con le spie dei guasti accesi, mancanza di aria condizionata e riscaldamento a bordo, nessun impianto di aspirazione di gas di scarico e materiali inquinanti, buche e voragini all'ingresso dei depositi, nella sede di Pescara un solo bagno per cento dipendenti, nella sede di Avezzano infiltrazioni d'acqua sui cavi elettrici, in quella di Giulianova l'officina è chiusa un contratto aziendale inapplicato e ritardi nei pagamenti delle indennità ai lavoratori. Prima di andare a vedere insieme il servizio che riguarda il sit-in di ieri davanti alla sede di Pescara della Tua, andiamo a leggere le altre notizie su questa pagina. L'Abruzzo investe sulle aziende spaziali, fondi statali e regionali per 40 milioni di euro, l'Olli, così puntiamo a sostenere la ricerca e poi l'economia in Abruzzo, il successo di De Cecco, tradizione e innovazione. Come detto, torniamo allo sciopero dei trasporti, andiamo a vedere insieme il servizio. Vesusta e scarsa manutenzione dei veicoli, caos nell'organizzazione del lavoro e carenze igieniche nei depositi. Sono solo alcune delle ragioni alla base dello sciopero di 24 ore del personale Tua S.P.A., proclamato per oggi dalla Segreteria regionale dell'Orsa, a cui avverisce circa il 10% dei 1.500 dipendenti della Tua. Questa mattina c'è stato un presidio nel piazzale antistante, la direzione generale di Tua a Pescara, allo sciopero. Ha aderito circa il 90% dei lavoratori. La proclamazione dello sciopero odierno è di Orsa Trasporti. C'è stata sì un'altra dichiarazione di un'altra sigla, non da tutte le altre sigle, ma che in parte riprende anche le stesse problematiche per cui oggi Trasporti, Orsa, Sciopera, ma che comprende anche delle tematiche attirenti la problematica che è venuta fuori negli ultimi giorni e che quindi noi non abbiamo potuto inserire nella nostra protesta perché è antecedente la dichiarazione di sciopero Orsa Trasporti rispetto a questa problematica e che è quella della cessione del ramo d'azienda decisa da politica e da azienda per quanto riguarda la divisione servizi a mercato, quindi le linee commerciali attualmente in esercizio a Tua, che vengono considerate come una zavorra, come un rimorchio, come un qualcosa di cui liberarsi. Io credo invece che queste linee possano essere gestite diversamente, ristrutturate, perché no, incrementando la produttività sui turni, bene, siamo disposti come sigla a parlare anche di questo. Al presidio dei lavoratori dell'Orsa ha partecipato anche il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari che è critico verso i vertici di Tua e verso la regione Abruzzo sulla gestione delle TPL, in particolare di Tua. Questa è una società che fa acqua ormai da tutte le parti. Noi abbiamo fatto grandi visite ispettive dove è venuto fuori una situazione allarmante, delle autobus che escono ancora fuori con spie rosse accese. Un'officina che rappresenterebbe un vero fiore all'occhiello, come dico io, perché è veramente una bella struttura, una grande struttura, ma non ha personale a sufficienza. Non ci sono anche personali di segreteria che dovrebbe svolgere tante pratiche. Poi quello che mi preme di più è che ci sono circa 170 persone tra gli amministrativi in esubero. Ecco, questi amministrativi in esubero alzassero il loro sedere dalla sedia e andassero all'interno degli autobus a fare la lotta all'evasione. Proseguiamo con le pagine di primo piano del Quotidiano Il Centro. Magistratura ed economia, ieri al convegno, all'Aurum, i fatturati non devono fermare le inchieste. Il convegno Legnini dice rispettare i principi di proporzionalità e adeguatezza. Così il vicepresidente del CSM ha il convegno di ieri all'Aurum. Dialoghi sulle procure, prospettive tra autonomia e regole, organizzato da Area Democratica per la Giustizia e una corrente di ANM. Ha partecipato anche il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti. Nel taglio basso, andiamo a leggere quest'altra notizia, l'Abruzzo in Corone, i campioni di innovazione. C'è tempo fino al 9 ottobre per iscriversi all'evento di Confindustria. E poi alle piccole imprese, aiuti per 300 mila euro comuni terremotati. Pubblicato il bando per aziende con meno di 5 dipendenti. La legge proposta da Gatti di Forza Italia interessa 23 centri Terramani, Aquilani e Pescaresi. Il vicepresidente del Consiglio regionale dice un buon inizio, ora spero in una grande partecipazione. Andiamo a vedere anche la pagina Abruzzo del quotidiano Il Messaggero. Le frontiere dello sviluppo, space economy, affari in orbita. La regione si candida a diventare hub nazionale delle tecnologie spaziali. A disposizione 40 milioni. Il primo passo è rafforzare il programma GovSatcom per sviluppare le comunicazioni satellitari del governo. Nel taglio basso, torniamo al convegno di Pescara, mafia, il procuratore nazionale Roberti, Abruzzo a rischio. Vertice dei magistrati con le nini, sottolineata la presenza del supercarcere di Sulmona. Andiamo a vedere anche la pagina Abruzzo della città. parte la verifica di tutte le dighe abruzzesi. Questa è l'apertura di pagina. Primo tavolo di lavoro ieri a Pescara, tra D'Alfonso, le prefetture e l'Ara, per i proprietari delle strutture idriche. Il censimento, secondo un primo censimento, in Abruzzo sono attive 14 dighe di carattere nazionale, 43 di carattere regionale e 2.364 invasi ex provinciali. Nel taglio basso, 300 mila euro per le piccole imprese colpite dal sisma. La notizia che abbiamo già visto in precedenza e poi di spalla lo sciopero dei trasporti e questa notizia l'Aggiunta regionale affida i servizi di trasporti in house alla tua. Proseguiamo con la lettura del quotidiano Il Centro. Andiamo ad aprire la pagina di Pescara. Un affare da 3 milioni di euro, Palazzo dell'Asle, c'è la politica dietro quell'operazione, intercettazione del dirigente Lomele, rivela il retroscena dell'acquisto. E poi l'intervista a Pettinari, che spreco una vergogna. Il consigliere 5 Stelle che ha denunciato il caso, la regione non intervenne. Altra notizia da Pescara, Don Max attacca, dov'è la farmacia promessa? L'ex parroco di Fontanelle contro la regione. Raccolte 2 mila firme, ma da 5 anni è tutto fermo. Le altre attività non vogliono nuove aperture. Continuiamo con le pagine pescaresi. Nuova Pescara, la fusione dal 1 gennaio 2019. L'intervista del delegato regionale ai trasporti, Camillo D'Alessandro, parla di accelerazione del progetto di legge sull'unico ente comunale con Montesilvano e Spoltore. Ancora da Pescara, altro caso importante, l'ACA rassicura dai rubinetti di casa, esce acqua pulita. Avviati controlli a tappeto su tutti i 60 fontanini pubblici, 6 sono stati chiusi per aumento della carica batterica. Andiamo ancora avanti. L'ex maresciallo accusato di assenteismo, il vigilo urbano licenziato, ora dorme sulla spiaggia. Pasquale Solari è tornato a vivere vicino al casotto sgomberato nel giugno scorso. Sono senza soldi, mangio solo quando pesco e se qualcuno mi regala del cibo. Andiamo ancora avanti. Finale del Fidas Beach Golf, 200 atleti in Piazza Salotto. Domani la sfida conclusiva. Nella pagina di Montesilvano invece troviamo l'omicidio nel Ristopub. Gli assassini di mio figlio sono due. La mamma del 21enne ucciso accusa Fantauzzi e Mancinelli e dice sono entrambi colpevoli. Questa sera alle 20.30 ci sarà una fiaccolata per non dimenticare. Antonio Bevilacqua, la vittima di questo efferato omicidio. Proseguiamo con la lettura delle pagine di Pescara e dell'area metropolitana sul quotidiano Il Centro. Piscina, ristorante, palestra, nuova vita al centro Trisi. Siamo sempre a Montesilvano. Il consigliere comunale Pompei propone un project financing. Dobbiamo fare della struttura un polo polisportivo di respiro nazionale. E poi proseguiamo con la pagina di Francavilla. Due francavillesi tra i cuochi Doc, Pace e Lupinetti nel gruppo dei 14 abruzzesi insigniti del Collegium Cocorum alla Camera dei Deputati. Ancora avanti con quest'altra pagina. Sagne e Quadriglia alla Fiera dell'Uva Nullo Filaterico Speciale per festeggiare l'edizione 2017 in cantina. Rievocate piggiatura nelle trocche e torchiatura. E poi diritto alla salute. Incontro sul futuro dei piccoli ospedali a Penne. Prima di passare alla pagina di Chieti andiamo a vedere sul messaggero le pagine di Pescara. L'apertura Ponte Nuovo parte la corsa al business. L'inaugurazione dell'opera ha messo in moto la partita della riqualificazione delle aree dismesse sulla sponda nord. Un enorme monopoli che vede impegnati i principali nomi dell'economia. Da Sciarra all'Amante, da Milia a Liberato Scioli. L'atto di indirizzo città del benessere varato dall'assessore civitarese rappresenta la cornice della operazione. Nel taglio basso il parco dell'infanzia rinasce per i bimbi di Rancitelli. Ieri l'inaugurazione in Via Tavo. Anche l'impegno di Don Ciotti per la riapertura dello spazio verde in un quartiere delicato e difficile. Continuiamo. Truffi online. Il record di Pescara. Furti di identità, frodi commerciali, ricatti ardu, una ricerca di generali. Ha calcolato il dato di un caso ogni 310 abitanti. La città è nella parte alta della classifica per province ed è al vertice regionale. Per le vittime nasce difesa web. Anche qui ritroviamo la notizia delle fontanelle inquinate. Sia la mappatura, ma i divieti restano. Ieri sera l'assessora Di Carlo ha riunito istituzioni e tecnici De Santis del Forum dell'Acqua chiede i referti sull'acqua di abitazioni e negozi. Nel taglio basso, vestina, gas in perdita, comuni nei guai. Capitale azzerato per la partecipata. Svalutazione bollette in evase. Fanno scattare i debiti fuori bilancio. Andiamo a vedere adesso la pagina di Chieti sul quotidiano Il Centro. Appalti e mazzette. L'apertura, il piano per gli affari svelato al telefono. Chiaramente parliamo dell'inchiesta Masterlist. Gli imprenditori arrestati. Le promesse del sindaco di casa Canditella. Nelle intercettazioni, gli altri lavori nella zona. Andiamo a casa rincontrata. Poi ci parla lui. Il primo cittadino di San Martino sulla Marruccina è indagato. Prima si disse disponibile. Poi si fermò. Nel frattempo a casa Canditella Giuseppe D'Angelo non si dimette. D'Angelo infatti non si dimette e va avanti. Terzo giorno di arresti domiciliari per il sindaco. Nel taglio alto lo sfogo dopo l'obiettivo sfumato. Gli arrestati citano anche D'Alfonso. Voleva favorire i ditti amiche. Il giudice è infondato. Andiamo a vedere anche sul messaggero la pagina di Chieti. Eccola qui. Chiamo dal tribunale. Torna a colpire la banda dell'incidente. Il titolo con cui viene aperta la pagina. Nel mirino due anziane raggirate con la falsa notizia del coinvolgimento di familiari nel bottino con tanti e gioielli. In azione specialisti del ramo le vittime scelte con cura tra soggetti emotivamente deboli. E poi scongiurato il rischio incompiuta sarà ultimato il tunnel pedonale a Chieti. Il collegamento fra il terminal di Via Gran Sasso e Largo Barbella vedrà la luce in sei mesi. Andiamo nella pagina di Lancianova Stortona. Il dragaggio non diventi un danno. Forza Italia esprime preoccupazioni sul costo dell'operazione sulla destinazione e sullo smaltimento dei fanghi inquinati. Febbo e Di Stefano il comune che è stazione appaltante dove troverà le risorse e progetto all'esame del comitato via. Andiamo a vedere insieme il servizio. Nuovo rallentamento per il dragaggio del porto di Ortona a denunciarlo in conferenza stampa è Forza Italia con il deputato Di Stefano il consigliere regionale Febbo il capogruppo comunale Polidori e l'ex Ceri e il coordinatore cittadino Cicotelli. Alla vigilia del prossimo comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale convocato per il 5 ottobre Forza Italia torna a sollecitare l'amministrazione comunale a intervenire per tutelare le operazioni di dragaggio dello scalo ortonese impantanato dicono i forzisti per colpa di una regione sempre più confusa e concludente. A preoccupare adesso è la vasca di colmata per i fanghi inquinati da 107 mila metri cubi il progetto ne prevede la realizzazione a terra nella piazzale tra il nuovo molo nord e la radice della diga foranea con fondi del comune che è lente appaltante Forza Italia si chiede se il comune abbia i fondi necessari per lo smaltimento o se invece questo progetto possa recare danno economico agli ortonesi perché dice in particolare Peppino Polidori commentando la recente approvazione del piano regolatore portuale la stessa area interessata dal progetto per il deposito GPL quello che ci preoccupa è anche l'area che viene destinata per lo sfruttamento di prodotti chimici e petroliferi questo potrebbe essere e su questo andremo a vigilare il classico cavallo di Troia tramite il quale può rientrare o può essere insediato il deposito di GPL che ci ha visto da sempre i contrari e temiamo e questo mi auguro che non sia tuttavia noi vigileremo affinché non si verifichi che anche queste modalità di smaltimento e la realizzazione anche di una vasca di colmata possa in qualche maniera agevolare questo insediamento del deposito del GPL che ci ha visto e ci vedrà sempre contrari Andiamo avanti con la lettura dei giornali apriamo la pagina dell'Aquila sul quotidiano Il Centro qui troviamo la parte aquilana dell'inchiesta Masterlist inchiesta appalti e politica il titolo Venturini ricompensa i suoi sostenitori l'accusa del GIP all'ex AD del CAM del Consorzio Acquedottistico Marsicano all'Aquila scoppia la grana Rogerio e Pirozzolo dirigenti delle Centro Anziani Lorenzo Berardinetti le congetture sul comune di Santa Maria sono infondate rinnovo la stima al mio vice Zangrilli che dimostrerà la sua piena estraneità e poi l'inchiesta sul caporalato sanzioni per 144 mila euro blitz nel fucino sospesa l'attività per tre aziende Bracco dice schiavi moderni la regione dia delle risposte nel taglio basso università in matricolazione a quota 660 l'Aquila la rettrice in Verardi riapre la sede di Palazzo Camponeschi in centro e vede rosa per il futuro proprio di Palazzo Camponeschi si parla nell'apertura di pagina dell'Aquila sul Messaggero eccola qui Palazzo Camponeschi rinascita a metà lo splendido restauro si scontra con le tante difficoltà legate ai disagi per l'accesso al centro storico a causa dei lavori il recupero ha tutelato l'impianto dell'antico convento ma sono sparite dall'edificio la mitica Aula F e l'Aula Magna ieri l'inaugurazione assente Zoro la rettrice in Verardi entriamo in questo palazzo per rientrare in città nel taglio basso il RIS esami high tech per rivelare indizi ieri c'è stato questo approfondimento nell'ambito della manifestazione Sharper la notte dei ricercatori sempre dall'Aquila dopo l'opposizione insiste dopo la violenza verbale è ora di dare risposte prosegue lo scontro al vetriolo con la maggioranza solidarietà ma sciocco ci si attacca ad una provocazione non si producono provvedimenti biondi sia masilone dovrebbe leggere la scuola dei dittatori andiamo a vedere ancora altre notizie dalla provincia dell'Aquila nella pagina di Avezzano sul Mola tangenti la procura scopre il tesoretto gli investigatori stanno verificando se le somme trovate al faccendiere Ruggeri siano di provenienza illecita delle intercettazioni ridda di nomi di politici e amministratori scusate il sistema stava cercando di arrivare alla giunta regionale erano già individuati altri appalti pubblici in una decina di comuni per 7 milioni di euro e nella valle Roveto fiume Liri la forestale sequestra un deposito di rifiuti restiamo sempre sul quotidiano il messaggero andiamo però a vedere adesso la pagina che riguarda invece Teramo andiamola a recuperare immediatamente eccola qui l'apertura è dedicata all'addio del Vescovo Seccia alla diocesi di Teramo Atri il Vescovo lascia la città me ne vado con il cuore ferito disposto il trasferimento a Lecce destinazione scritta nel destino il mio dolore per sisma e maltempo su 417 chiese 200 sono ancora inagibili selfie e commozione all'annuncio della partenza del religioso prevista per metà dicembre restando sempre su questo argomento andiamo a vedere anche la pagina della città Toto Vescovo per il successore di Seccia l'addio del Monsignore il capo della diocesi di Teramo Atri ha ufficializzato la promozione ad arcivescovo metropolita di Lecce vediamo insieme l'intervista realizzata ieri da Tania Bonici Castelli Cosa porta via nel suo cuore da Teramo? Teramo lo spirito degli abruzzesi quello che ho imparato qui quello che ho sofferto insieme con voi ma anche questa grande speranza è la capacità di andare avanti perché bisogna andare avanti non bisogna fermarsi e la speranza cammina con le gambe degli uomini questo vale per me vale per voi vale per i politici vale per gli amministratori vale per tutti Quali sono stati i momenti più difficili? e i momenti più difficili sono stati i momenti del 2009 del terremoto e poi questi ultimi mesi come voi potete bene immaginare per cui veramente è una ferita che mi porto dentro e basta è una soddisfazione è una soddisfazione? no non guardo guardate credetemi non guardo i titoli alle nomine è una grande responsabilità perché ritorno nella mia terra sì ma da casa mia a Lecce forse ci sono più chilometri che da casa mia a Teramo quindi sono le questioni di andiamo avanti sempre notizie da Teramo nell'apertura di pagina del quotidiano il centro troviamo i conti del comune in rosso corte dei conti in 8 mesi 15 milioni di squilibrio di cassa l'allarme tra gennaio ed agosto il sistematico ricorso alle anticipazioni ha zerato il fondo il sindaco non rischiamo il dissesto questo è l'unico parametro negativo sui 10 richiesti andiamo a vedere anche la pagina della provincia invece sul quotidiano il messaggero nell'apertura nuovo avvertimento al centro sociale Parco Franchi dopo l'incendio e le infrastrutture del circolo lasciata una coperta semibruciata con sopra dei volantini gestori c'è qualcuno che vuole che il campetto sparisca così stanno cercando di allontanarci in qualsiasi modo questa notizia che arriva da Giulianova continuiamo invece con le notizie dal Terramano sulla città un'altra settimana di sciopero alla Atria Dozi della CGL meglio contratti part time per tutti pur di evitare i licenziamenti torniamo a parlare dei conti del comune di Teramo Corte dei Conti lancia l'allarme sulle casse comunali i giudici contabili esortano l'amministrazione a sistemare immediatamente lo squilibrio di 15,2 milioni di euro nel taglio basso la critica conti al collasso per una scellerata politica finanziaria così Fabio Berardini del Movimento 5 Stelle proseguiamo Teramo penalizzata da Slow Food ristoratori cittadini esclusi da Osteria d'Italia per il terzo anno consecutivo ancora Lazio incentiva l'uso delle bici con 25 centesimi a chilometro mobilità sostenibile da gennaio con MoveT circoleranno 1822 autovetture in meno in 10 comuni della provincia Apri Street più in alto di sempre i prati di Tivo questa l'iniziativa che è stata presentata a Teramo andiamo nella pagina della provincia notizia che riguarda il CIRSU dopo lo stop arrivano i licenziamenti decisione inevitabile dopo la chiusura dell'impianto raggiunto in provincia l'accordo per 29 dipendenti l'azienda si è impegnata a titolo di incentivo all'esodo a derogare ai dipendenti che non si opporranno al licenziamento una somma aggiuntiva inoltre limitatamente ad alcune figure i licenziamenti potranno essere intimati anche oltre il termine di 120 giorni proseguiamo visita sorpresa di Edgar Davids a Sant'Egidio spunte il campione l'ex calciatore di Juve Milan si ferma a prendere un caffè con la compagna scatenando l'entusiasmo dei tifosi andiamo nella pagina di Giulianova Mosciano dalle strisce brù almeno 150 mila euro approvato l'affidamento alla patrimonio al comune spetta il 70% degli incassi a Giulianova e poi a processo per le botte a fratello e genitori a te le ragazze di 21 anni ha minacciato e picchiato i familiari per avere dei soldi e poi da Silvi autopsia sul corpo del 31enne trovato morto in casa andiamo a vedere anche la pagina di Roseto Pineto da Tresilvi pasticcio in consiglio sul distretto sanitario maggioranza costretta a ritirare la delibera perché piena di imprecisioni l'opposizione dice sono totalmente impreparati questo quanto accaduto nel consiglio comunale di Roseto apriamo la pagina dello sport ora e dunque torniamo sul quotidiano il centro per andare a vedere insieme la pagina relativa al Pescara Carpi Pescara Zeman troppi infortuni oggi basta un dolorino così il tecnico boemo il calcio è cambiato ricordo immobile che giocava con la caviglia gonfia queste le parole di Zeman alla vigilia della partita con il Carpi il Delfino rimaneggiato con nove assenti cerca la vittoria in trasferta che manca da un anno e quattro mesi ci sono anche le parole dell'allenatore delle Carpi Calabro equilibrio e grinta per sconfiggere il boemo il tecnico ex difensore del Castelli Sangro i Biancazzurri hanno tutto per vincere il campionato squadra allenatore ambiente rientra Bakogu allora andiamo a vedere le probabili formazioni per quanto riguarda la partita di questo pomeriggio alle ore 15 arbitra Minelli di Varese il Pescara con il consueto 4-3-3 Pigliaccelli in porta Mazzotta Bovo Coda e Balzano in difesa Brugman Candutè e Coulibaly a centrocampo Capone Pettinari e Del Sole in avanti per il Carpi 3-5-1-1 Colombi Cappela Poli e Ligi in difesa Ielenic Verna Giorico Saber e Pasciuti a centrocampo Manconi e Mbakogu in avanti queste dunque le probabili formazioni prima di andare ad ascoltare Zeman vediamo anche l'anticipo di ieri fra Parma e Salernitana è finita 2-2 con la rimonta della squadra campana che era sotto per 2-0 dunque andiamo ad ascoltare le parole di Zeman per me è una buona squadra tipica la serie B lavorano tutti fisicamente sono tutti su 1-85 quindi c'hanno fisico e quindi è una buona squadra se non sbagliavano la partita con Foggia erano oggi in testa vabbè allora sono una squadra chiusa che poi riescono a aggredire l'avversario e ripartire poi è la caratteristica loro è difficile che giocano a lungo infatti è la squadra che fa meno possesso di polla del campionato certo che tutti questi infortuni rischiano una sfiga pazzesca sei anni fa mi ricordo che non si infortunava nessuno è strano certamente che c'ha chi c'ha infortunio perché c'ha compleanno è un'altra mentalità che oggi nel calcio moderno appena uno sente qualche cosina si ferma ci vogliono le cure ci vogliono la radiologia queste cose è un altro tempo ma penso che è in tutto calcio insomma i crini 30 minuti di Cremona non li vuole più vedere questo è poco non si dupo si quelle erano brutte brutte come sta vivendo questo periodo opaco perché sono state panchine a garzi io ci parlo spesso forse più con lui che con tutti gli altri arriverà al suo tempo lui lo sa e si sta preparando per quello vabbè lui con suo fisico sicuramente ha sofferto la preparazione di partenza e poi i gol di Pettinario ci hanno chiuso un po' andiamo a vedere anche l'apertura dell'Abruzzo Sport del messaggero il Pescara Carpi cerca il primo acuto in trasferta il titolo sulla partita sul prepartita di questo pomeriggio mai più una prestazione come quella di Cremona abbiamo sentito le parole di Zeman avversario forte con fisicità poi attacca sui troppi infortuni e proprio agli infortuni veniamo in questo approfondimento dopo Zampano out pure Crescensi in difesa arriva il momento di Balzano avremo bisogno di una prestazione con intensità e concentrazione per tutti i 90 minuti dice il tecnico del Carpi in questa pagina Ginobili Junior serata carioca con Amarcord Biancoazzurro l'artista Rosetano in colcetto a Rio de Janeiro ha invitato l'ex fuoriclasse del Delfino vedete la foto insieme restiamo sempre sul messaggero andiamo a vedere questa notizia che riguarda il Teramo Sansovini Campitelli si è piegato ai tifosi del Teramo a scaldare una vigilia geli per sé calda ci pensa Marco Sansovini l'ex attaccante del Teramo ora la Fermana ha parlato a margine dell'allenamento nel prepartita della gara di domenica andiamo a vedere il titolo sul Teramo anche sul quotidiano il centro Teramo-Fermana la replica di Sansovini Campitelli alla memoria corta la verità del bomber che domani tornerà al Bonolis mi ha messo fuori rose e mi ha fatto allenare con 42 gradi sul quotidiano la città ancora titoli sul Teramo tre ballottaggi per il Teramo Asta ci riflette scrive il nostro collega Jacopo Forcella in dubbio in ogni zona del campo per il tecnico salgono le quotazioni di Pietrantonio Polucci e Sumare domani in campo alle 14.30 e poi anche qui le parole di Sansovini Sansovini al Vereno Teramo la società si fa comandare dai tifosi l'attaccante ritrova i biancorossi ad agosto potevo rientrare non mi hanno voluto mi hanno fatto allenare a 42 gradi proseguiamo sul quotidiano il centro andiamo a vedere le altre notizie l'eccellenza si tinge di rosa una donna medico sportivo alla curia angolana la spada domani in panchina altre notizie per il calcio a 5 Pescara inibiti Collini e Iannascoli l'acqua e sapone è piena di acciacchi sul messaggero invece la serie D andiamo a vedere l'Aquila anche il palazzo scarica la vecchia proprietà futuro a forte rischio decisiva l'approvazione del prossimo bilancio per quanto riguarda l'Aquila Calcio il calcio a 5 a centro pagina per l'acqua e sapone il giorno del riscatto dopo la sconfitta all'esordio a Napoli la squadra di Ricci ospita a Chieti il caos Reggio Emilia e cerca la prima vittoria per quanto riguarda il rugby niente soldi non si gioca la prima di campionato 24 ore per sperare se oggi non arriveranno buone nuove l'Aquila Rugby Club non scenderà in campo per la prima giornata del campionato di Serie A contro i Cavalieri Prato sesto e poi per l'atletica campionati di società argento non opposto per la Gran Sasso il basket di A2 Combe Roseto pronto a combattere superarci sarà difficile per tutti e per l'automobilismo Ponzio sempre più leader nel campionato di Formula 2 questa era anche l'ultima notizia della nostra rassegna stampa mattino 6 termina qui naturalmente l'appuntamento con la nostra rassegna è per lunedì alle ore 8 il telegiornale invece oggi torna alle 14 alle 19 alle 23 con le tre edizioni canoniche del notiziario vi ricordo anche che attorno alle 14.70 parte diretta stadio per seguire insieme la partita fra Carpi e Pescara e studio come sempre Andrea Costantini e da Carpi collegamenti in diretta con Paolo Renzetti per il pre il durante il post gara è tutto davvero per mattino 6 io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata e un buon fine settimana grazie a tutti grazie a tutti